Amici di STYLIS ed eccoci ad una nuova puntata di STYTRAVEL Guardate un po' dietro di me questo meraviglioso panorama Siamo a Finale Ligure e stiamo salendo sulle alture del borgo antico per addentrarci nei ruderi del castello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti